Hai un problema che nessuno può risolvere? Forse neanche io posso risolverlo, ma posso farlo conoscere a tutti. Esponimi il tuo problema. Io valuterò il tuo caso. E... Se vedo... Insomma, se il tuo problema mi sembra interessante, ne parlerò nei miei siti internet, nei miei blog, farò filmati che poi metterò su YouTube e anche in altri siti. I problemi di uno sono i problemi di tutti. Navigatori di internet, scrivetemi. Grazie a tutti.